Ed eccoci di nuovo qua su Fumetteri Non Air. Oggi vi parlerò di un volume unico uscito recentemente in Italia, scritto e disegnato da un'attrice che abbiamo già avuto modo di conoscere abbastanza approfonditamente in Italia e si tratta di Paru Itagaki. Di suo abbiamo letto Beastars, che è un'opera shonen di più di 20 volumi, di cui ho parlato tante volte su questo canale, ci sono anche delle puntate del podcast dedicate proprio alla lettura di Beastars. Uno shonen tra i più interessanti degli ultimi anni, però leggerlo è come stare veramente sulle montagne russe. Ci sono dei momenti, dei capitoli, delle battute che toccano delle vette incredibili, incredibili, e poi ci sono volumi a volumi dove invece si vola molto 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 basso. È un peccato, ma è una lettura che rifarei assolutamente, ricomprerei e alla fine è una lettura che ti lascia anche qualcosa. Non è pure semplice intrattenimento e basta. Paru Itagaki ha anche creato una raccolta di storie brevi che vivono all'interno in qualche modo del mondo di Beastars, che si tratta di Beast Complex, doveva essere un volume unico, poi sono stati due volumi, adesso saranno tre volumi, tutti dedicati a queste raccolte di storie brevi. E se non ho capito male, andando avanti con queste raccolte, le storie saranno sempre più incentrate, sempre più legate alla serie principale. Inoltre Planet Bunga ha annunciato a Luca Comics and Games l'arrivo anche di un nuovo volume unico di questa autrice, un Josei semi-autobiografico, dove racconterà a suo modo un po' la vita quotidiana, vissuta in una casa dove anche il padre era un famoso mangaka. In questo caso però oggi vi parlerò di Bota Bota, eccoci qua, sempre di Paru Itagaki. Mi aveva estremamente incuriosito soprattutto quando erano uscite le prime immagini dal Giappone di questa nuova opera, qualcosa di veramente folle, e effettivamente inizia così, ve lo mostro. Eccoci qua, questa è la nostra protagonista, Mako Igari ha 29 anni ed è una malata dell'igiene. Come potete vedere infatti appena lei decide di mettere la testa dentro questo cestino, eccoci qua, nella scena successiva vediamo tutto pieno di sangue schizzante da tutte le parti. Allora è un inizio abbastanza shock, Mako Igari lavora, è diciamo addetta alle pulizie potremmo dire così, e soffre di questo disturbo. Ogni volta che viene a contatto con qualcosa di sporco, lei inizia a sanguinare copiosamente. Questo è un grosso problema anche perché l'educazione che è stata data alla protagonista impone di considerare in qualche modo sporco anche il semplice avere un rapporto sessuale con qualcuno. Questo quindi le impedisce di avere una vita sessuale normale, semplice, e lei è in qualche modo anche ossessionata da questa cosa qui. Vuole trovare alla sua età qualcuno con cui finalmente avere un'attività sessuale normale e senza perdere sangue. Leggiamo quindi all'inizio la presentazione di questo problema e di come inficia la sua vita quotidiana e poi a un certo punto accade qualcosa di diverso, qualcosa di strano, perché ci si imbatte in un protagonista maschile che riesce finalmente forse a conquistare il suo cuore e quindi anche a farle fare quel passo in più che la porterà quindi a non considerare sporco quello che vorrebbe fare con l'altro sesso. Tutto però viene raccontato alla maniera di Paru Itagaki. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà ci saranno delle grossissime sorprese sul finale di questo volume, molto 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 carine, molto simpatiche, ma in generale tutto quanto viene raccontato in un modo abbastanza comico, divertente, simpatico, e poi con il suo tratto che è qualcosa di totalmente diverso, difficilmente classificabile. Vi mostro anche, ho aperto a caso, è uscita questa bellissima doppia pagina, veramente molto molto carino, ma mi rendo anche conto che sia esattamente quello che potrebbe respingere buona parte dei lettori, perché non è un disegno giusto, un disegno classico, un disegno normale, e quindi potrebbe anche essere qualcosa che non riesce ad essere apprezzato totalmente dai lettori, o anzi essere il motivo che respinge totalmente un nuovo lettore. Se vogliamo addirittura, sembra che questi personaggi, nonostante siano normali, cioè delle persone umane, nonostante questo, guardarli ricorda tantissimo Beastars, cioè ti sembra di avere di fronte di nuovo dei personaggi antropomorfi, in realtà sono degli umani normali, che però hanno questa fisionomia così particolare, così diversa dal solito, e ti fanno pensare quindi che questi personaggi hanno all'orinterno qualcosa di non umano, in realtà non è assolutamente così, vi faccio vedere anche questa doppia pagina, eccoci. È uno stile veramente stranissimo, però a me quello che più diverte è proprio il suo modo di raccontare le cose, i suoi dialoghi, cosa decide di mettere su carta, è quello che mi dà quel gusto in più. Non è certamente un'opera imprescindibile, che non potete assolutamente perdervi, però secondo me è una lettura veramente molto carina, molto simpatica, molto divertente, e diversa perché Paro Itagaki è effettivamente qualcosa che sfugge da tutte le catalogazioni possibili. Sul finale di questo volume unico c'è anche una mini storia breve dedicata a Santa Claus, però insomma è decisamente trascurabile, occupa pochissimo spazio, il più è la storia che vi ho raccontato prima. Bello questo volume unico, 7,90€, secondo me potete anche dargli questa possibilità. Paro Itagaki si conferma per me un'autrice da tenere d'occhio, non vedo l'ora di leggere la nuova opera annunciata da Planet Manga, questo intanto era Bota Bota, fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo avete già letto, e ci vediamo sempre qui su Fumetteri Non E. A presto! Grazie a tutti!